Molte grazie Marcello. Si lamenta quando, credo nell'82, Paesiello lascia Pietroburgo e Quarenghi scrivendo a un corrispondente dice quanto mi manca il mio Paesiello, con lui passavamo le serate, ci divertivamo e ero anche un grande amico. Ringrazio poi di averci portato una rappresentazione chiara della colonna sonora della vita di Giacomo Quarenghi, accompagliandolo nei suoi vari luoghi fino agli ultimi anni della sua vita. Grazie molte. Allora i colleghi curatori, per cortesia, vogliano essere così cortesi. Direi che a questo punto ovviamente, anche per ragioni nel fatto che ci chiudono, quelli che dovevano essere la tavola rotonda diventano invece i saluti e i ringraziamenti naturalmente, perché io per quanto mi riguarda ho pochissime parole a riguardo, nel senso credo parlando a nome di tutti i colleghi e di Moschini che purtroppo si scusa ma non è potuto essere presente adesso. Dico che abbiamo veramente scelto uno ad uno, possiamo usare il termine scelto, i contributori, i relatori, non a caso, e non a caso abbiamo avuto veramente dei risultati soddisfacenti, a dire poco, veramente ammirevoli e per i quali ringraziamo sentitamente tutti a uno a uno perché veramente credo che mai come in questo caso non dovremmo essere noi a dirlo, insomma un progetto di un convegno poi ha avuto un esito sperato. Ecco grazie per quanto mi riguarda, non ho altro da aggiungere. Solo anche un saluto, un ringraziamento a tutti i relatori e a tutti coloro che hanno partecipato a questo convegno anche come uditori naturalmente. Un ringraziamento particolare all'Accademia di San Luca, questo senz'altro è un tributo che è assolutamente doveroso per l'ospitalità ma anche per l'assistenza, la costruzione di questo convegno e alla realizzazione di questo convegno. Quindi i tecnici e tutti coloro che ci hanno aiutato. Quindi credo che si possa concludere qui. Di nuovo rinnoviamo i saluti, ringraziamenti e rimandiamo agli atti. Perché saranno a breve, avrete nostre notizie. Senz'altro che speriamo di pubblicare. Grazie per associarmi dando appuntamento al volume.